Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Appena terminata la partita, uno dei posticipi, ci sarà poi questa sera a Juve Chievo, però è terminato uno dei posticipi della ventesima giornata di Serie A, quello fra Genoa e Milan. Vittoria per 2-0 del Milan contro un Genoa che in realtà non mi è rispiaciuto per niente, devo essere sincero. Secondo me il risultato è stato piuttosto pesante per il Genoa perché per quello che si è visto in campo il 2-0 secondo me non è così giusto. Ok, quando finiva 1-0 secondo me andava più che bene, più che bene perché il Genoa comunque soprattutto nel primo tempo ha fatto una bellissima partita. Ha giocato molto molto bene, ha creato tante tantissime occasioni, poi nel secondo comunque ha rallentato un pochino i ritmi. Il Milan è cresciuto un po' però secondo me il 2-0 non è un risultato giusto. Come detto la vittoria del Milan è un risultato che ci sta perché qualitativamente comunque il Milan è superiore indipendentemente dalle assenze, indipendentemente dal fatto che non sia in un ottimo periodo è comunque una squadra qualitativamente superiore e si sta tranquillamente. Però considerando che il Genoa non aveva Piontek, considerando che comunque la situazione era di per sé un po' difficile per proprio il divario tecnico, il Genoa ha fatto comunque la sua partita. Secondo me se il Genoa avesse avuto Piontek, che non parlo di Piontek perché andrà al Milan, ma parlo di Piontek proprio per questa partita in quanto squalificato e non c'era, se avesse avuto Piontek secondo me il Genoa sarebbe riuscito nel primo tempo a trovare la via del gol perché quello che gli è mancato è stata fondamentalmente la cattiveria, l'essere cinico là davanti e con Pandev ha avuto un'occasione clamorosa, con Bessa ha avuto un'occasione clamorosa, anche Lazovic ha fatto due o tre tiri, qua a me è stato pericoloso, Trantek e Zapata si è fatto male proprio su una sua azione, però ovviamente come detto era squalificato, non poteva esserci, però peccato per il Genoa. Sono contento per il Milan perché nonostante tutto, nonostante l'assenza è comunque riuscito a portare a casa i tre punti, oggi si è fatto male anche a Zapata, ha dovuto mettere addirittura a batte centrale, però è chiaro che bisogna fare anche un ragionamento, nel senso che evidentemente se ogni partita tu rischi perché hai delle carenze, perché hai delle, a livello numerico parlo delle carenze, a livello non qualitativo, appunto come detto numerico, evidentemente qualcosa è stato sbagliato nel mercato. E' chiaro che serviva forse quel centrale in più, è chiaro che serviva forse quel centrocampista in più, perché ti ritrovi con i giocatori contatti, cioè se tu non puntavi su Montolivo, Alilovic, Jose Mauri e Bertolacci, era inutile averli perché tanto non li farei mai giocare, Jose Mauri oggi è entrato un quarto d'ora, però Bertolacci è comunque un giocatore, secondo me niente male, ora in trattativa di mercato proprio con il Genoa per Piontek, però non è malissimo, nel senso può fare il suo, Montolivo è un giocatore che anche quando mancavano tutti non l'ha fatto giocare, Alilovic ha lo stesso modo, nonostante fosse una mezzala. Quindi evidentemente andavamo fatte delle valutazioni di mercato diverse. Adesso vedremo, la questione del Milan è più che altro il fatto che là davanti, Cutrone anche oggi non ha toccato palloni. Tu puoi prendere anche Higuain, puoi prendere anche Harry Kane, ma se non li fai arrivare un pallone là davanti non potrà mai fare nulla, non potrà mai fare nulla. E quello che manca è il gioco fondamentalmente, il gioco del Milan, perché effettivamente anche palloni al centro giocabili ne sono arrivati pochi, sia a terra che palle alte. Gli unici palloni giocabili l'ha avuto di Cutrone 1 alla fine, proprio quando mancavano 5 minuti, e che tant'è che stava facendo una bella azione con Pacchettà, e l'altro quando effettivamente ha fatto l'assist, ma è dovuto tornarselo a prendere a centrocampo, quando ha fatto l'assist a Suso, che era un bellissimo lancio effettivamente, però è stato perché è stato bravo lui a tornare, secondo me. Quindi effettivamente, come hai detto ragazzi, se tu puoi avere Iguain, puoi avere Cutrone, Riccain o Pandev là davanti, che se non ti arrivano i palloni fai ben poco. E questo Milan deve capirlo, perché ho visto tantissime critiche in confronti di Iguain, però Iguain da solo ragazzi non poteva fare niente di che. Vedremo adesso con Piontek, se ci sarà effettivamente questa ufficialità. Piontek che è un attaccante indubbiamente che ha del gran senso del gol, è quel giocatore che ti esce anche fuori area e ha il tiro da fuori, quindi magari può risolvere qualcosa, però come hai detto, se i palloni non arrivano al centro, come è stato fatto oggi, sarà bello che dura. Volevo spendere anche due parole su Pacchietta. Nuovo acquisto del Milan, avevo già fatto un video mesi fa, in realtà quando era stato ufficializzato effettivamente il colpo, è un centrocampista giovane, è un centrocampista anche interessante. Oggi diciamo croce ed elizia, possiamo dire, perché comunque il Milan, con lui, ha trovato un giocatore di qualità tecnica, un giocatore capace nell'inserimento, però è un giocatore che si vede che deve imparare ancora molto, deve crescere. Secondo me era già stato munito, più volte ha rischiato il secondo giallo, poi per fortuna non gli è stato dato, ma più volte l'ha rischiato, e alternava delle grandissime giocate, sia in fase offensiva che proprio a livello tecnico, in maniera positiva, appunto come detto, appunto veniva esaltato con queste qualità, con queste giocate, però poi magari dopo la giocata perdeva il pallone. Un paio di volte il Milan ha rischiato proprio di prendere gol su suoi errori, su sue palle perse, e questa è una cosa che effettivamente deve migliorare, però comunque a tempo è giovanissimo, può ancora crescere molto, quindi può essere una pedina importante per il Milan, visto oggi che con l'assenza di che sì, Paquetà secondo me dopo Bakayoko è stato sicuramente il migliore a centrocampo, cioè l'augurlo è inguardabile, almeno al momento, un giocatore che a me non dispiace, però al momento è inguardabile. Bakayoko forse è migliore in campo, poi Paquetà probabilmente, uno dei migliori. Mentre invece volevo anche spendere due parole, poi chiudo qui il video, su Conti, Conti che sono molto contento che ha fatto l'assist, comunque è un giocatore italiano, è un giocatore che aveva grandi prospettive quando è arrivato al Milan, poi ha avuto il doppio infortunio, è stato molto sfortunato, però spero che riesca a trovare poi più continuità a livello di minutaggio, a livello di prestazioni, perché è un giocatore importante anche per la nazionale. Oggi fa un assist, l'altra volta comunque è entrato in Supercoppa, e fra poco prendeva quel rigore che sembra ci fosse, quindi insomma è un giocatore anche dal punto di vista offensivo molto importante, un'altra partita ha fatto un assist, quindi insomma è un giocatore che bisognerà far crescere, un giocatore che bisognerà recuperare per il Milan perché servirà sulla fascia, un giocatore con la sua spinta, con Suso là davanti possono creare una fascia destra molto molto interessante. Detto questo ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere mi piace se volete poi il video post partita di stasera quella da parte tra Juventus e Chievo, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo questa partita e vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Attualità calcistica, fantacalcio e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.